Attenzione, ragazzi e ragazzi, questo è il capitano di parlare, benvenuti a Radio Globo, la più esperienza radio station in Roma. Siamo sperando che siete piaciuto il tuo volto e grazie per la scelta Beat Club. Ora, se potete ritornare i vostri tavoli e le sede a loro posizioni in posizione, stiamo parlando di esperienza seriosa. Beat Club, a Radio Globo. Un remix di Dusk, novità in questa terza puntata di Beat Club, altra novità, ragazzi, è il collegamento con Barcelona. Vai, Andrea Ortega! This is the future. Best music around the world. You're listening to Adria Ortega. Ciao, Andrea, come stai? Bienvenidos desde España, desde Barcelona, con il ritmo más contagioso. In uno secondo sonora qui, desde il programma Beat Club de Radio Globo. Questo è il numero uno della settimana in Spagna, Desapareciti e Walter Master, Ibiza. London, Paris, Mirri, Rome, Ibiza, New York. Adria Ortega, New York, Miami, Rome, London, ma anche Ciampino, chi Ciampino. Sono molti amici che ci stanno seguendo da quella zona in questo momento, quindi li salutiamo. Grazie a questo nuovo ingresso, Adria Ortega da Barcelona, al quale io risponderei, sempre che tu non ti offenda, con questo Lex da funk, una sorta di botta in risposta, che non è male, tutto sommato, è per mantenere abbastanza altino il ritmo. Il ritmo, questa sera, sarà il protagonista del assoluto, insomma, del quarto raduno ufficiale del Globo Beat Club, che si... This is Beat Club, on Radio Globo.